una partita a tetris di alessandro malaspina pola lo sai che tu mi sei simpatico perché sei di quella specie di persone che si aspetta di avere voglia ancora tutta la vita di quella razza di chi non ha bisogno di niente per essere in piena forma per sempre di chi non ha mai una fragilità un dubbio un'ombra sei fortunato tu perché tanti ti credono e ti seguono come modello io però non vorrei avere dei seguaci come hai tu preferisco sbagliare da solo senza possedere un coro prono che mi applaude qualsiasi cosa faccia sì lo so lo so hai ragione tu che sostieni l'incertezza sia anti erotica per antonomasia sia sempre meglio una faccia da schiaffi che un'onesta ammissione di debolezza meglio puntare fieramente il dito contro gli altri che guardarsi dentro ma tu davvero mi sei simpatico perché non ascolti mai nessuno elargisci sempre sorrisi non sei musone come me e mentre gli altri parlano gonfi i muscoli per esibire la tua superiorità a secondi quelle persone che cercano il fisico e infastidiscono la mente no stasera non mi va di uscire nessuna invidia per carità non ho tutto il tuo fiato per essere sempre performante tutte le sere e ci mancherebbe ma neanche a vent'anni ricordi che a vent'anni leggevo sofocle sul terrazzo della cucina invece oggi giocherò una partita a tetris l'ho sognato la scorsa notte come quando consumavo i mesi a trent'anni giocando a tetris mi aveva detto un tuo amico che a trent'anni fossero finite le possibilità di amare e di essere amati già da cinque anni sembrava disperato al sabato non si era più visto in compagnia e andava nelle grandi città in cerca di locali con amanti di quelli di età uguale o superiore a trenta sai per me giocare a tetris è sempre stata una maniera per non rispondere alle tue domande tu sempre così perfetto e io pieno di incertezze tu il sabato sera e sempre avuto l'imbarazzo della scelta di chi portarti a letto io giocavo a tetris anche a cena mi portavo il piatto di minestra con grandi disappunto materno davanti al computer e partita dopo partita in breve tempo diventai un campione di quel gioco mentre tu arrancavi per raggiungere gli stessi miei punteggi una sera prima di andare al tuo ennesimo incontro galante mi chiedesti a cosa stessi giocando e così ci prendesti gusto anche tu ma mi spiace non sei mai stato in gamba come me almeno questo lasciamelo cominciarsi ad assaporare il sapore della sconfitta seppur secondo me piccola come quella di un videogame però sempre fondamentale per te essere vincente anche in questo settore i pezzi che scendono nel tetris hanno varie forme e colori e vanno incastrati in modo tale che ogni volta che si attiene una riga orizzontale quella viene annullata e si procede l'opposto di un numero ha sempre il segno contrario a quello del numero stesso l'opposto di un numero negativo è sempre un numero positivo e viceversa l'opposto di zero è zero stesso dai dai prometto che domani ti lascio vincere mi spiace vederti così abbattuto se io fossi vendicativo ti lascerei nel tuo scoramento ma non lo farò perché te l'ho detto mi sei simpatico dico sul serio i vari pezzi del tetris si chiamano tetramini ognuno è formato da quattro blocchi essi precipitano dall'alto verso il basso uno per volta nello spazio rettangolare fino ad arrestarsi sul fondo o su altri blocchi già depositati il compito di chi gioca è quello di ruotarli e muoverli mentre cadono in modo che quando si posano creino una riga orizzontale di blocchi senza interruzioni quando la riga è completa i mattoni spariscono e i pezzi sovrastanti cadono negli spazi vuoti si perde quando i blocchi si accumulano fino a riempire l'area di gioco io ti chiederò solo una cosa amico mio ti fa più paura leggere game over o che io abbia un punto in più d'altronde me lo hai insegnato tu bisogna sorridere sempre ho imparato bene